Mi chiamo Marco Manessi, sono della ditta ReuFix, tecnico per isolamento termico e cappotto. Oggi sono presso la vostra sede per partecipare alla settimana della domotica. Ogni anno voi ci offrite questa opportunità che noi cogliamo molto volentieri. Oggi siamo qui in presenza di un evento speciale. Per noi per la prima volta presentiamo anche il discorso della rete sisma, che si tratta di un adeguamento sismico dell'edificio. Si tratta di cicli studiati appositamente e mirati prima di un adeguamento termico. E poi essere utilizzato chiaramente su edifici nuovi, ma anche preferibilmente verso palazzina e abitazioni di nuovo adeguamento sismico. Si tratta di una rete quadriassiale molto particolare, però adeguata, applicata con adeguate crismi di applicazione, con una calce idraulica speciale, riusciamo ad ottenere una miglioria nel lato della muratura esterna. Si tratta di un adeguamento soprattutto a taglio, sulla muratura soprattutto a mattone. Stiamo eseguendo anche delle prove di laboratorio precise. E ultimamente stiamo anche utilizzando una tavola vibrante su cui viene fatta poi la prova della nostra tipologia edilizia. Chiaramente questo tipo di intervento deve essere fatto prima di intervenire su un sistema a cappotto, in modo tale che poi adeguato sismicamente l'edificio noi possiamo adeguare poi termicamente il tutto. Queste operazioni combinate chiaramente conferiscono una nuova qualifica, una nuova, come possiamo dire, economicamente e valutano un miglioramento economico dell'edificio proprio a due interventi principali sulla riqualificazione.